qui è un nuovo video, oggi ci mangeremo esta tè, che già abbiamo preparato il tutto guardate esta tè con il formaggino bel paese aspetta, un altro poco, prendiamo così facciamo vedere che l'abbiamo messo veramente non apposta, eh questa è la rimanenza ci reggiriamo un poco andiamo, facciamo questo e gira allora insieme tutto in una botta si pronta? vai vabbè se dobbiamo mettere una però uno è buono Antonio che vomita a me che non mi fa niente direi che buono Antonio vieni qua, stoppiamo il video e poi vomiti Antonio vomiti dopo Antonio vomiti dopo vieni a salutare il video vieni a salutare il video è domani ciao ciao